Asilo Avanti! Ma ti è andata male? Non pensa ad altro che a quello scemo di comportati bene un'opare rotto ar sacchia Non essere impertinente E questa bambina cattiva in camera sua Dov'es... e şekaj aaAH heheheheheheheheheheheheheheh doto appeared nanamolazze vettine di quelle tue lucentole 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 sono loro che devono pattugliare l'isola l'hanno fatta AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA aaaaaaaaa ад errrrr iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Sìma perchè non riesci a trovare il mio grosso ****** eh eh nå lo so ma Ma guarda che cos'io' meraviglioso ha portato su dalla cava Potrimo venderle per un sacco di hey Vorrei tko tk Vorrei tko Non facessi così Lei non accetta urrrrrrrr di no lucertole. Tu sei troppo diamante. Ma la marea stava crescendo e l'acqua stava crescendo e lei laggiù si preoccupava solo che la marea non si bagnasse. L'acqua crescendo e lei laggiù si preoccupava solo che il suo l'acqua non si bagnasse. Si. Is. E come si fa?